salve benvenuti sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana oggi con noi c'è olga buongiorno a tutti oggi sono con voi nei panni della modella il video sarà breve perché ad olga non piace tanto provare i vestiti quindi iniziamo subito con la prova vorrei subito dirvi che abbiamo riportato delle modifiche che vi spiegherò andando avanti l'obiettivo è imparare a cosa stare attenti e come evitare certi errori a cosa pensare prima di iniziare a costruire un corsetto ma ve li spiego man mano cosa abbiamo fatto cosa notiamo subito quando guardiamo il corsetto si vedono le pieghe sotto il seno queste pieghe si sono formate perché non ci sono ancora le stecche e andranno via dopo che le abbiamo inserite ecco in realtà il discorso del di queste pieghe quando sarà tutto rinforzato dispariranno subito poi come vedete abbiamo ripreso un po la coppa perché era più larga del necessario se invece fosse il corsetto ad essere più largo si potrebbe riprendere in qualsiasi cucitura ecco vedete in queste cuciture laterali ricordo che il nostro consiglio è fare prima un prototipo utilizzando un tessuto economico ma che assomiglia al nostro tessuto principale per quanto riguarda peso e tipo puoi preparare il corsetto dal tessuto che sarà il rovescio del nostro abito e fare di nuovo una prova nel nostro caso sarà questo il rovescio in ogni caso armatevi di pazienza perché quando si fa un corsetto servono due e anche tre prove non è una cosa immediata perché veramente ci richiede tempo e non è più un lavoro come una blusa una camicia qui è da da fare più prove e da adattare bene detto questo l'altra correzione che dobbiamo riportare diminuire la distanza tra le due coppe abbiamo deciso di fare un centimetro dalla linea del centro ricordiamo che la distanza iniziale era 1,5 quindi tre centimetri da una coppa ad altra ora invece questa distanza sarà di due bisogna fare in modo tale che il corsetto sia molto che abbia una vestibilità precisa sul corpo andiamo avanti vedete qua il bordo del corsetto si è formata questa specie di scala la parte centrale più corta e la parte dei fianchi una più lunga dell'altra cosa è successo è successo che praticamente ho preso male la misura ho misurato la distanza da sotto il seno fino alla vita senza lasciare riserva nella parte del corsetto laddove si unisce con le coppe e poi quando abbiamo fatto la prova le coppe continuavano a scendere e dolga continuava ad alzarle quindi ora devo rifare questa parte per evitare questo errore semplicemente lasciate due centimetri di riserva e un paio di centimetri anche la linea vita come vedete questi sono alcuni errori io vi faccio vedere adesso proprio il processo di lavoro della creazione di un abito così non abbiamo fatto nulla dietro le telecamere proprio per farvi capire dove abbiamo sbagliato anche noi in modo tale che anche voi imparate così quindi vi dico per evitare questi errori dovete lasciare un po di margini di riserva sia nella linea vita che sopra dovete semplicemente lasciare qualche centimetro di riserva e si evita tutto come vedete il fianco va bene mentre le due parti centrali che sono sotto la coppa devono essere più lunghe e devo rifarle olga fai un giro così vediamo da tutte le parti il dietro invece va benissimo qui non ho dovuto fare alcuna modifica come vedete va tutto bene in generale grazie a questa prova ho già idee più chiare mi sento un po come uno scultore dove devo scolpire un abito che non solo segue a perfezione il corpo ma da anche una bella forma quindi mi sento uno scultore stavolta anche voi ragionateci insieme vediamo ora la gona olga voleva che sia più lunga e abbiamo tagliato la parte corta davanti a 51 centimetri poi quando si è vista lo specchio deciso di accorciare un po ecco potete vedere gli spilli e ricordiamoci anche che sopra ci saranno tanti strati di tool quindi la gona avrà un peso diverso avrà una forma anche completamente diversa grazie al tool più o meno sarà questa la lunghezza della nostra gona insomma questa sarà la lunghezza poi piano piano scenderà in lunghezza fino alla terra abbiamo accorciato abbastanza direi di 8 centimetri più o meno per quanto riguarda la lunghezza dietro dipende da voi può essere corto oppure qualcuno potrebbe fare anche una trena di tre metri vedete voi quello che mi piace vedete la la gonna si è accorciata di 8 centimetri quindi il dietro vedete voi potete farla più lunga più corta come vi piace per quanto riguarda la lunghezza decidete voi in base alla figura che vi trovate davanti e con questo direi che abbiamo concluso la prova ora vediamo quali sono le impressioni di olga vorrei dire che mi sento come in una favola mi piace molto questa fase iniziale del lavoro e so che c'è tanto ancora da fare so che il materiale che vi presentiamo non è semplice è bello ma impienitivo ma già immagino quanto sarà bello il vestito e non vedo l'ora che sia finito vi ricordo che quando avremo il nostro club vi insegneremo come inserire le stecche fare le coppie ci saranno delle lezioni dedicate apposta adesso faccio un'altra volta il giro per così cari capirete bene come si presenta il vestito per intero e se devo essere sincera mi piace anche così senza il tool speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto e che ognuno di voi ha tratto qualcosa di utile scriveteci cosa altro vi piacerebbe vedere se e se vi piace questo tipo di video dove vi facciamo vedere proprio il reale lavoro dalla modellistica fino al capo pronto scriveteci nei commenti e con questo noi vi salutiamo alla prossima con voi sono stati olga svetlana e tutto il nostro iscrivetevi al nostro canale mettete mi piace e commentate alla prossimo